Alle 4 e 25 del mattino Christian Sula ha smesso di lottare. A nulla sono serviti i due interventi d'urgenza a cui è stato sottoposto al bacino e all'addome. Troppo gravi le ferite e i traumi causati dalla trave d'acciaio di 11 tonnellate che l'ha travolto venerdì scorso. Sula, di origini moldave, residente a Monfalcone, aveva 25 anni e era ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Borgo Trento a Verona. Trasportato d'urgenza in elicottero dopo l'incidente sul lavoro di cui era rimasto vittima all'interno dello stabilimento di Fincantieri di Valleggio sul Mincio. Saldatore, dipendente di una ditta in appalto, il suo nome si aggiunge alla triste lista delle cosiddette morti bianche, una piaga che proietta il Veneto tra le prime regioni d'Italia. Sul posto, oltre ai carabinieri e ai sanitari del 118, c'era l'ospisal di Verona, il servizio di prevenzione e sicurezza dell'ULS9, che sta conducendo le indagini per ricostruire che cosa sia successo. La trave per una qualche ragione si è staccata ed è finita addosso all'operaio. Cordoglio da parte dei sindacati FIOM CGL e FIM CISL, che tornano a puntare il dito sulla sicurezza. Per domani, proclamate otto ore di sciopero nello stabilimento di Valleggio. Incroceranno le braccia i dipendenti di Fincantieri e delle ditte in appalto.